Fine primavera stessa storia, la Virtus resetta ancora una volta la guida tecnica pensando però sempre rosso nero positivo. La conferenza stampa di mister Baroni in fin dei conti non sembra aver sorpreso dirigenza e popolo rosso nero che hanno digerito senza drammi la decisione del mister di fare le valigie nonostante un altro anno di contratto. Sul web si sono scatenati però in molti ringraziamenti doverosi per quanto fatto in una stagione memorabile ma critiche a non finire per le parole del mister senza più fuoco dentro per poter restare rosso nero senza telefonatine e contatti vari da altri club ma sarà vero casomai più importanti per denari disponibilità e soprattutto ambizioni. Difficilmente Marco Baroni tornerà a parlare più probabile un incontro con la dirigenza alla fine della prossima settimana la rescissione del contratto e ognuno per la sua strada. Sul futuro si comincerà a pensare da subito ma per adesso inutile azzardare il classico toto allenatore. La certezza è che Roberto D'Aversa potrebbe fare il vice non ancora in possesso del patentino necessario alla serie B ma su cui la Virtus punta per il futuro. L'anno scorso di questi tempi si parlava di Massimo Oddo chissà che il suo nome non torni subito di moda e poi chissà a un ritorno di Carmine Gautieri che non nasconde la propria volontà di ritornare in rosso nero da figlio al prodigo comunque siamo nel puro campo delle ipotesi. Ieri occhi lucidi nell'ultima cena dell'anno tutta la squadra si è riunita in un ristorante di San Buceto per i saluti finali molti tanti torneranno nelle società di appartenenza uno di questi è Luigi Sepe che non nasconde però di voler restare. Napoletano del Napoli azzurro prestato in rosso nero la tua società punta fortemente proprio su di te. No non lo so perché ancora ci devo parlare con il Napoli però quest'anno mi ha mandato in prestito qui a Lanciano ho fatto un buon campionato ho fatto sono stato benissimo qui a Lanciano e ora tra qualche giorno vedremo cosa fare. Ho se il Napoli dovesse proporti insomma di giocare in prima squadra penso che sì ma è una proposta impossibile visto le ambizioni del Napoli e a quello che aspira quindi sicuramente farò qualche anno in prestito ancora e come ho detto magari in quel Lanciano. Ti piacerebbe qui? Sì 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 ho parlato con il direttore quindi ne parleremo più avanti. Quanto sei cresciuto? Tantissimo non in campo perché non sono io a valutare ma come persona ho imparato tanto in quel Lanciano da grandissimi giocatori da grandissime persone come Mammarella, Menta, Vastora che sono degli ottimi uomini a di fuori di giocatore che non stanno a valutare. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.